Maria Chiara Gadda ieri ha fatto un intervento sul dissesto idrogeologico, un problema che tocca tutta l'Italia ma anche la provincia di Varese. Assolutamente sì, perché l'Italia è un territorio fragile e lo è anche la nostra provincia, che ha una parte di territorio montuoso che è soggetto a frequentissime frane. E in Parlamento che cosa ci è stato posto all'ordine del giorno? Non più risorse, non norme più semplici messe a disposizione dei sindaci, ma l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta che costa 50.000 euro l'anno al contribuente e che dovrà analizzare l'operato dei sindaci. Non l'omogeneità delle norme, non il fatto che spesso ci sono troppi, tanti enti di controllo che sovrappongono le loro competenze e su questo Italia Viva ha votato in modo contrario. Servono più risorse e come abbiamo detto ci sono dei gruppi parlamentari che non hanno le carte in regola per parlare di prevenzione, per parlare di quello che si dovrebbe fare. Perché ad esempio il Movimento 5 Stelle durante il governo Conte dalla sera alla mattina ha cancellato l'unità di missione Italia Sicura. Italia Sicura aveva al suo interno 16 esperti, ingegneri, persone della protezione civile, esperti di appalti pubblici, che avevano consentito nei 4 anni di attività di sbloccare centinaia di cantieri, anche quelli piccoli, anche quelli della nostra provincia, rispetto al dissesto idrogeologico, rispetto alle frane, alla messa in sicurezza delle scuole. E ci sono tanti sindaci del nostro territorio che hanno fatto riferimento a una struttura che era in grado anche di dare un supporto tecnico, perché molte volte i piccoli comuni si confrontano con grandi interventi, con grandi investimenti. E dalla sera alla mattina quella unità di missione è stata chiusa per demagogia, ma soprattutto ha messo a rischio 8,4 miliardi di euro che erano stati stanziati, 11 mila progetti che erano stati confermati e che soltanto in minima parte sono poi stati inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Io ho avuto modo, perché come capita a tanti parlamentari, si confronta con i sindaci del territorio, di vedere cosa avviene nella quotidianità quando si deve fare una gara. Molte volte si aspettano 13 mesi, 14 mesi per una PEC e lo abbiamo visto anche in queste ore, in questo fine settimana. Gli eventi atmosferici che agiscono su un territorio che è già fragile avvengono a una frequenza maggiore rispetto al passato. Quindi già se dobbiamo aspettare 14 mesi per una PEC, piuttosto che vedere un elenco in gazzetta ufficiale, quindi parlo di documenti ufficiali, di deroghe alle norme ordinarie perché altrimenti i progetti non possono partire, io non credo che sia da paese normale. Quindi nelle ore in cui mezza Italia sott'acqua e anche tanti nostri sindaci sono preoccupati, io credo che fare una commissione di inchiesta, diciamocelo soltanto per dare una poltrona a un piccolo gruppo di maggioranza, credo che sia indecoroso, mettiamoci insieme davvero con tutte le energie positive del paese, perché noi costruiamo dighe, costruiamo impianti, abbiamo nuovi materiali nell'universo mondo e talvolta non siamo in grado di proteggere il nostro territorio. Capisco che la prevenzione è un elemento complicato, perché prevenire, la prevenzione si vedono gli effetti magari a distanza di tempo, dopo 5 anni, dopo 10 anni, però forse dobbiamo lavorare tutti insieme per una cultura diversa della messa in sicurezza dei territori perché spendendo uno in prevenzione si risparmia 100 in ricostruzione e pagamento degli indennizi e lo vedremo anche nella prossima legge di bilancio se gli indennizi, i soldi per la ricostruzione, ci saranno allo stesso modo per l'Emilia Romagna, per la Sicilia, per la Calabria, perché poi questo è un altro elemento. Quando succede il disastro è come se partisse l'anno zero e quindi si riparte sempre da zero per capire dove devono andare i rifiuti, i materiali di risulta, se siamo fortunati ci sono le risorse, altrimenti la gente aspetta. Insomma, quindi forse in questo momento, visto che le risorse sono scarse, servirebbe più serietà e gli accordi per dare i contentini ai parlamentari penso che si possono trovare con altre maniere, con altre modalità.